Mi sento, se posso dire, a casa, anche se è una parola molto tosta da dire, l'accoglienza che mi ha riservato la società e Maurizio Sabelli e Nicola Dottavio mi ha tempito di gioia. Come sempre inizio con grande entusiasmo, come ho fatto sempre in qualsiasi parte dove ho lavorato, non mi piacciono le fasi scontate, le fasi già fatte, ma è una realtà importante questa di Vasto, so di dover dimostrare come ogni anno bisogna resettare e dimostrare, però siamo conti, il lavoro non mancherà, l'entusiasmo non mancherà e mi auguro che con questi arrivino anche i risultati. Io la prima volta che mi sono incontrato con la società ho detto che Vasto non può permettersi di fare una squadretta, lo dice la storia, non dobbiamo forse neanche partire in pompa magna come è stato fatto qualche anno fa, magari illudendo le persone, bisogna lavorare seriamente, farlo con umiltà, però qualcosa nel mercato bisogna fare, anche perché so di tante uscite, non verranno riconfermati molti, perciò per fare una squadra degna della vastese bisogna lavorare sia io che il direttore e la società per portare dei profili giusti per fare un campionato che mi auguro che ci veda, non dico da protagonisti sempre, però possiamo dire la nostra.